Buongiorno a lei Adesso è la visita alle 11 C'è posto ancora? C'è posto Questi sono i biglietti Complimenti a lei, lei è il nostro 300 millesimo visitatore Buongiorno a lei Buongiorno a lei Buongiorno a lei Buongiorno a lei Veniamo da Bergamo Siamo qui in visita per trovare i nostri nonni Per dimostrarci che cosa hai vinto Avvertendo i biglietti per entrare un anno nelle grottie castellane Quindi quando vorrai tornare a provarci Sarai intervenuto Grazie mille Grazie a tutti 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 Grazie a tutti